La pipa di Maigret di Georges Simenon Capitolo I. La casa degli oggetti che si spostano Erano le sette e mezzo. Nell'ufficio del direttore, Maigret tirò fuori dal taschino l'orologio con un sospiro di soddisfazione, ma anche di stanchezza. Il sospiro di un uomo corpulento alla fine di una calda giornata di luglio. Poi allungò il braccio e raccolse le pratiche sparpagliate sulla scrivania di Mogano. Si richiuse alle spalle la porta imbottita e attraversò l'anticamera. Sulle poltrone rosse non c'era nessuno. Il vecchio uscere era nel gabbiotto a vetri e il corridoio della polizia giudiziaria era deserto. Una lunga prospettiva, grigia e assolata allo stesso tempo. Gesti di tutti i giorni. Tornò nel suo ufficio, dove nonostante la finestra spalancata sul che desorfèvre, aleggiava un persistente odore di tabacco. Posò le pratiche in un angolo della scrivania, batté sul davanzale il fornello della pipa ancora calda, andò a sedersi e con un gesto automatico cercò a tentoni un'altra pipa, là dove avrebbe dovuto essere, alla sua destra. Non la trovò. Accanto al posacenere c'erano sì tre pipe, di cui una di schiuma, ma la sua prediletta, quella che cercava, quella che usava più volentieri, che portava sempre con sé, una grossa pipa di radica leggermente ricurva, che la moglie gli aveva regalato dieci anni prima per il compleanno, insomma, la sua vecchia buona pipa, come la chiamava lui, non c'era. Stupito, si tastò entrambe le tasche, poi vi frugò dentro. Guardò sul camino di marmo nero. In verità, agiva senza criterio. Gli capitava spesso di perdere momentaneamente una pipa. Fece due o tre volte il giro dell'ufficio. Aprì l'armadio a muro che nascondeva un lavamano smaltato. Cercava come cercano gli uomini, in modo piuttosto stupido. In tutto il pomeriggio, infatti, non si era mai avvicinato a quell'armadio. E poco prima delle sei, quando aveva ricevuto la telefonata del giudice Comelio, stava fumando proprio quella pipa. Suonò il campanello per chiamare l'uscere. «Senta, Emil, mentre ero dal direttore è entrato qualcuno nella mia stanza?» «No, commissario». Rovistò di nuovo nelle tasche della giacca e dei pantaloni. Era palesemente contrariato e massiccio com'era. Tutto quel girare a vuoto l'aveva fatto sudare. Entrò nell'ufficio degli ispettori, dove non c'era nessuno. A volte gli capitava di lasciare là una delle sue pipe. Era strano e piacevole vedere i locali del Kedesorfèvre così vuoti, in un'atmosfera quasi di vacanza. Nessuna traccia della pipa. Bussò alla porta del direttore, che era appena andato via. Entrò nell'ufficio, ma sapeva già che la pipa non c'era. Verso le sei e mezzo, quando ci era andato per discutere delle inchieste in corso, nonché della sua imminente partenza per la campagna, ne stava fumando un'altra. Le otto meno venti. Aveva promesso di tornare in boulevard Richard Lenoir alle otto, in tempo per la cena con la cognata e il marito. Che cos'altro aveva promesso? Ah sì, di prendere la frutta. La moglie gli aveva raccomandato di comprare delle pesche. Ma strada facendo, nell'aria affosa della sera, continuava a pensare alla pipa. Ci rimuginava su senza quasi accorgersene. Come si rimugina su quei fatti di poco conto che ci appaiono però inspiegabili. Comprò le pesche, rientrò a casa e baciò la cognata, che trovò più grassa che mai. Servì gli aperitivi. Ecco, quello era un momento in cui Di Norma avrebbe fumato la pipa buona. Molto lavoro oggi? No, giornata tranquilla. Capitano periodi così. Due suoi colleghi erano in vacanza. Il terzo aveva telefonato la mattina per dire che aveva parenti in visita dalla provincia e si prendeva due giorni di ferie. Sembri preoccupato, Maigret, osservò la moglie durante la cena. E lui non osò confessare di essere angustiato per la pipa. Non ne faceva un dramma, certo, però continuava a pensarci. Alle due. Sì, era arrivato in ufficio alle due e qualcosa. Luca era entrato per parlargli di un caso di appropriazione indebita. E poi gli aveva detto che l'ispettore Jean Vier aspettava un altro figlio. Poco dopo, toltosi la giacca e allentato il nodo della cravatta, Maigret aveva cominciato a stilare con calma il rapporto su un suicidio che in un primo tempo era stato scambiato per un delitto. In quel momento fumava la pipa buona. Poi era arrivato Jean, un magnaccia che aveva dato una coltellata a quella che lo manteneva. Le aveva fatto il solletico, come diceva lui. Ma Jean non si era avvicinato alla scrivania e, in ogni caso, aveva le manette. Vennero serviti i liquori. Le due donne parlavano di cucina. Il cognato ascoltava distrattamente fumando un sigaro, mentre dalla finestra aperta giungevano i rumori di boulevard Richard Lenoir. Maigret era rimasto tutto il pomeriggio in ufficio, senza neanche concedersi una birra alla Brasserie Dauphin. Poi si era presentata la signora... Com'è che si chiamava? Rouat o le Rouat. Non aveva un appuntamento. Emile aveva annunciato. C'è una signora con il figlio. Che cosa vuole? Si rifiuta di dirlo. Insiste per parlare con il direttore. La faccia entrare. Per puro caso, in quel momento non aveva granché da fare, altrimenti non l'avrebbe ricevuta. Aveva dato così poca importanza a quella visita che ora stentava a ricordarne i dettagli. La cognata e il cognato se ne andarono. Mentre rassettava, la moglie gli fece notare. Sei stato poco loquace stasera. C'è qualcosa che non va? Ma che? Andava tutto benissimo. A parte la pipa. Stava scendendo la notte e Maigret si mise al davanzale in maniche di camicia, come migliaia di persone che alla stessa ora, a Parigi, si affacciavano a prendere il fresco fumando la pipa o una sigaretta. La donna, il cognome doveva essere Lerouat, si era seduta proprio di fronte al commissario, con la postura un po' rigida di chi vuole assumere un contegno dignitoso. Una donna sui 45 anni, di quelle che invecchiando tendono a rinsecchirsi. Maigret invece preferiva quelle che con gli anni ingrassano. Il motivo della mia visita, signor direttore? Il direttore non c'è, sono il commissario Maigret. E qui gli tornò in mente un dettaglio. La donna non aveva battuto ciglio. Evidentemente non leggeva i giornali e con ogni probabilità non aveva mai sentito parlare di lui. Era apparsa piuttosto offesa di non essere stata ricevuta dal direttore della polizia giudiziaria in persona e aveva accennato un gesto con la mano come a dire «Pazienza, mi dovrò accontentare». Al contrario di lei, il giovanotto su cui il commissario non si era ancora soffermato aveva avuto una specie di sussulto e il suo sguardo si era posato sul commissario con viva curiosità. «Non vieni a dormire?» chiese la signora Maigret che aveva già preparato il letto e stava cominciando a svestirsi. Tra poco che cosa gli aveva raccontato di preciso quella donna? Era stata un fiume di parole, verbosa e insistente, il tipo di persona che si prende molto sul serio e teme sempre che gli altri non facciano lo stesso. Una mania delle donne e del resto, soprattutto di quelle che si avvicinano ai 50. «Io e mio figlio abitiamo...» In fondo non aveva tutti i torti perché il suo interlocutore le prestava ben poca attenzione. Era vedova, questo Maigret se lo ricordava. Aveva detto di aver perso il marito da diversi anni, 5 o 10. Il commissario lo aveva dimenticato. Da parecchio tempo, comunque, perché si era lamentata dei sacrifici che aveva affrontato per tirar su il figlio da sola. «Gli ho fatto da madre e da padre, sa?» Come poteva dar peso a frasi del genere che tutte le donne della stessa età e nella stessa situazione ripetono con pari orgoglio e identica espressione dolente? C'era stato anche un piccolo battibecco a proposito di quella vedovanza. Che battibecco? Ah, sì. La donna aveva detto «Mio marito era ufficiale di carriera» e il figlio l'aveva corretta. «Maresciallo, mamma», nell'intendenza a Vincent. «Scusi, quando dico ufficiale so quel che dico. Se non fosse morto, se non si fosse ammazzato di fatica per i suoi superiori che si prendevano i meriti lasciando tutto il lavoro sulle sue spalle, a quest'ora sarebbe ufficiale. Dunque...» Il commissario non si era dimenticato della sua pipa. Al contrario, cercava di mettere a fuoco la questione. «Per esempio, la parola Vincent era collegata alla pipa. La stava fumando, maigre ne era certo, quando il ragazzo aveva nominato la città. Poi non erano più tornati sull'argomento. Dove ha detto che abitate? Non ricordava più il nome del che, ma era a Charenton, subito dopo che de Bersi. Ripescò dalla memoria l'immagine di un lungo senna molto ampio, fiancheggiato da magazzini e chiatte colme di merci. Una casetta a due piani, tra un caffè che fa angolo e un grande condominio. Il giovanotto era seduto accanto alla scrivania con la paglietta sulle ginocchia, giacché aveva una paglietta. «Mio figlio non voleva che venissi, signor direttore. Scusi, signor commissario, ma io gli ho detto se non hai niente da rimproverarti, non c'è motivo di...» «Di che colore era il suo vestito?» «Sul nero con qualcosa di lilla». Il tipico abbigliamento delle donne mature che vogliono avere un'aria distinta. Un cappello assai elaborato, probabilmente rimodernato più volte. Guanti di filo scuri. Le piaceva ascoltarsi. Cominciava le frasi sempre allo stesso modo. «Si figuri che...» «Oppure...» «Glielo diranno tutti». Megre, che per riceverla si era rimesso la giacca, aveva caldo e si sforzava di vincere la sonnolenza. Una faticaccia. Si rammaricava di non averla dirottata subito verso l'ufficio degli ispettori. «Mi è capitato parecchie volte di tornare a casa e accorgermi che in mia assenza è entrato qualcuno». «Un momento. Vive sola con suo figlio?» «Sì. Sulle prime ho pensato che fosse stato lui, ma a quell'ora mio figlio lavora». Megre guardò il giovanotto che sembrava contrariato. Anche lui facile da inquadrare. Sui diciassette anni, alto e magro, viso brufoloso, capelli rossicci e lentigini sul naso. «Sornione?» «Forse. Era così che poco dopo l'aveva definito la madre, perché ci sono persone a cui piace parlare male dei familiari. In ogni caso, timido e introverso. Fissava il tappeto o altri oggetti dell'ufficio e quando credeva di non essere osservato, lanciava a Megre rapide occhiate penetranti. Non era contento di trovarsi là. Questo era chiaro. Non concordava con la madre sull'utilità di quella denuncia. Forse si vergognava un po' di lei così pretenziosa e charliera? Che lavoro fa suo figlio? Apprendista barbiere. E il giovanotto aveva commentato con amarezza «Siccome mio zio ha un salone a New York, mia madre si è messa in testa di…» «Non è mica un disonore fare il barbiere?» «Era per dirle, signor commissario, che non può allontanarsi dal salone in cui lavora, vicino a Place de la République. Del resto me ne sono accertata.» «Un momento. Lei ha sospettato che suo figlio rientrasse a casa in sua assenza e l'ha seguito?» «Sì, signor commissario, non sospetto di nessuno in particolare, ma so che gli uomini sono capaci di tutto.» «E perché suo figlio sarebbe dovuto andare a casa di nascosto?» «Non lo so.» Poi, dopo una pausa. «Magari per portarci una donna. Tre mesi fa gli ho trovato in tasca la lettera di una ragazzetta. Se suo padre.» «Come fa a essere così sicura che si è entrato qualcuno?» «È una cosa che si capisce subito. Mi basta aprire la porta e già posso dire…» «Non molto scientifico, ma abbastanza vero, tutto sommato. Abbastanza umano.» «A Megre era capitato di avere sensazioni del genere.» «E poi?» «E poi piccoli dettagli. Per esempio, l'anta dell'armadio a specchio chiusa a chiave, cosa che io non faccio mai.» «Nell'armadio ci sono oggetti preziosi.» «Vestiti e biancheria, più qualche ricordo di famiglia.» «Ma non hanno preso nulla se è questo che vuole sapere. Anche in cantina ho trovato una cassa spostata.» «E che cosa conteneva?» «Barattoli vuoti.» «Insomma, da casa sua non manca niente.» «Credo di no.» «Da quanto tempo ha l'impressione che qualcuno si introduca nel suo appartamento.» «Non è un'impressione, è una certezza. Da circa tre mesi.» «Secondo lei quante volte è successo?» «Direi una decina in tutto. Dopo la prima visita c'è stato un lungo periodo, forse tre settimane, in cui non è venuto nessuno. O almeno io non me ne sono accorta. Poi due volte di fila. È un altro intervallo di tre settimane o più.» «Da qualche giorno le visite si susseguono e l'altro ieri, quando c'è stato quel violento temporale, ho trovato impronte di scarpe e tracce di bagnato.» «Saprebbe dire se erano impronte maschili o femminili?» «Forse maschili, ma non ne sono sicura.» Aveva detto parecchie altre cose. Aveva parlato moltissimo, senza bisogno di incoraggiamento. Per esempio, quel lunedì, giorno in cui i barbieri non lavorano, aveva portato il figlio al cinema al solo scopo di tenerlo d'occhio. Il ragazzo era stato con lei tutto il pomeriggio. Erano tornati a casa insieme. Ma in nostra assenza era entrato qualcuno. Ciò nonostante suo figlio non voleva che ne parlasse con la polizia? «Appunto, signor commissario. È questo che non capisco. Le ha viste anche lui le impronte.» «Le ha viste, giovanotto?» Il ragazzo preferì non rispondere, chiudendosi in un ostinato silenzio. Significava che la madre esagerava, chi aveva le travegole? «Secondo lei, il o i visitatori, da dove passano?» «Dalla porta, suppongo. Non lascio mai le finestre aperte. Per entrare dal retro il muro è troppo alto e bisognerebbe attraversare i cortili delle case vicine.» «Ha trovato tracce di manomissioni nella serratura?» «Nemmeno un graffio. Ho guardato anche con la lente d'ingrandimento di mio marito.» «Qualcuno ha una coppia della chiave?» «No, ci sarebbe mia figlia.» Un lieve movimento del giovanotto. «Ma abita a Orléans con il marito e i due figli.» «Andate d'accordo?» «Io le ho sempre detto che faceva male a sposarsi con un buono a nulla. A parte questo, dal momento che non ci vediamo mai.» «E lei si assenta spesso da casa?» «Mi ha detto che è vedova. La pensione che le passa all'esercito probabilmente non basta.» La donna assunse un'aria di dignitosa modestia. «Lavoro, certo.» «All'inizio, voglio dire dopo la morte di mio marito, ho preso in casa dei pensionanti, due. Ma gli uomini sono troppo sporchi. Se avesse visto in che condizioni lasciavano le camere.» In quel momento, Maigret non si rendeva conto di ascoltare. Eppure ora gli tornavano in mente non solo le parole, ma anche il tono. «Da un anno faccio la dama di compagnia della signora all'allemane, una persona perbene, madre di un medico. Vive sola vicino alla chiusa di Charenton, proprio di fronte a casa mia e ogni pomeriggio è più che altro un'amica, capisce?» In verità, Maigret non aveva dato alla faccenda il minimo peso. «Una mitomane? Forse. Non gliene importava niente. Era proprio il tipo di visita che ti fa perdere mezz'ora senza motivo. Il direttore era entrato nell'ufficio o meglio si era affacciato alla porta come faceva spesso. Aveva lanciato un'occhiata ai visitatori e già dal loro aspetto aveva capito anche lui che erano lì per una faccenda banale. Può venire un istante, Maigret? Erano andati insieme nella stanza accanto dove avevano discusso in piedi di un mandato d'arresto appena trasmesso via telegrafo da Digione. «Se ne è occuperato Rans», aveva detto Maigret. non aveva la pipa buona ma un'altra. Quella buona doveva averla posata sulla scrivania poco prima quando gli aveva telefonato il giudice come liò ma in quel momento ancora non ci pensava. Rientrato nel suo ufficio si era piazzato davanti alla finestra con le mani dietro la schiena. «Insomma, signora, non le hanno rubato niente?» «Credo di no». Quindi non sporge denuncia per furto. Non posso dato che ha soltanto l'impressione che negli ultimi mesi e in particolare negli ultimi giorni qualcuno abbia preso l'abitudine di introdursi in casa sua mentre lei non c'è. Giusto? Una volta anche di notte. Ha visto qualcosa? Ho sentito. Che cosa ha sentito? In cucina è caduta una tazza e si è rotta. Sono scesa subito. «Era armata?» «No, non ho paura». «E non c'era nessuno?» «Non c'era più nessuno. La tazza era in frantumi sul pavimento». «Ha gatti, per caso?» «No, né gatti né cani. Gli animali sporcano troppo». «Potrebbe essere entrato un gatto da fuori?» Il giovanotto pareva sempre più sulle spine. «Stai abusando della pazienza del commissario Megre, mamma?» «Per farla breve, signora, lei non sa chi si introduce in casa sua e non ha idea di che cosa potrebbe cercarvi. Infatti, siamo sempre state persone oneste e...» «Se posso darle un consiglio, faccia cambiare la serratura e vedremo se le visite misteriose continuano». «La polizia non farà niente». Li aveva accompagnati alla porta. Si avvicinava l'ora in cui il direttore lo aspettava nel suo ufficio. «Per scrupolo, domani le manderò uno dei miei uomini, ma a meno di non sorvegliare la casa ventiquattro ore su ventiquattro, non credo che...» «A che ora verrà?» «Lei mi ha detto che la mattina è a casa, tranne quando vado a fare la spesa». «Va bene alle dieci?» «Domani alle dieci». «Arrivederci, signora». «Arrivederci, giovanotto».» Piggiò il pulsante del campanello. Entrò Luca. «Ci sei tu di turno?» «Domani alle dieci va a questo indirizzo. Vedi un po' di che si tratta». «Senza nessuna convinzione». «La questura e le redazioni dei giornali hanno in comune il privilegio di calamitare pazzi e mitomani». Ora, affacciato alla finestra di casa sua, mentre l'umidità della notte cominciava a penetrargli nelle ossa, Magret borbottò «Diavolo di un ragazzino!» Perché era stato lui senza dubbio a sgraffignare la pipa sulla scrivania. «Vieni a letto, sì o no?» Andò a letto. Era seccato, borbottava. Le lenzuola erano calde e appiccicose. Borbottò ancora un po' prima di addormentarsi e il mattino dopo si svegliò di malumore, come quando ci si è addormentati con un pensiero sgradevole. Non era un presentimento, eppure sapeva, anche sua moglie lo sapeva, ma non osava aprire bocca, che iniziava la giornata con il piede sbagliato. Per giunta, il cielo minacciava un temporale e l'aria era già affosa. Si incamminò verso il che desorfevre seguendo il lungo Senna e per due volte cercò con gesti automatici la pipa nelle tasche. Sbuffando, salì le scale polverose. Emilio accolse annunciandogli «C'è una persona che l'aspetta, commissario!» May Gray sbirciò dietro i vetri della sala d'attesa e scorse la signora Leroy, seduta sul bordo di una sedia tappezzata di velluto verde, come pronta a scattare. Appena lo vide, infatti, la donna si precipitò verso di lui, tesa, furibonda, angosciata, in preda a mille sentimenti diversi. Gli afferrò il bavero della giacca e gridò «Che cosa le avevo detto? Sono venuti stanotte! Mio figlio è scomparso! Ora mi crede? Me ne ero accorta, sa, che mi prendeva per pazza! Non sono mica scema! E guardi, guardi!» frugò con mano febbrile nella borsa e ne tirò fuori un fazzoletto bordato di azzurro che sventolò con aria trionfante. «Ecco, è o non è una prova? A casa non abbiamo fazzoletti con il bordo azzurro, eppure questo qui l'ho trovato sotto il tavolo della cucina, e non è tutto!» Maigre guardò con espressione cupa il lungo corridoio fervente di animazione mattutina dove la gente si voltava a guardarli. «Venga con me, signora!» sospirò. «Eccola, la tegola!» L'aveva sentita arrivare. Aprì la porta del suo ufficio e appese il cappello al solito posto. «Pregosi, accomodi, la ascolto!» Diceva che suo figlio... «Mio figlio è scomparso stanotte e Dio solo sa che cosa gli è successo!» Capitolo secondo «Le pantofole di Giuseppe» Era difficile capire che cosa pensasse di preciso riguardo alla sorte del figlio. Poco prima Alcè d'Esorfevre durante una crisi di pianto scoppiata all'improvviso come un temporale estivo aveva detto fra le lacrime «Sono sicura che me l'hanno ucciso e nel frattempo lei non ha fatto niente! Crede che non lo sappia che cosa ha pensato? Mi ha preso per pazza! Proprio così! E forse adesso mio figlio è morto e io resterò sola al mondo senza nessun appoggio!» Ora invece mentre percorrevano in taxi Rue de Bersy simile al viale alberato di una cittadina di provincia aveva recuperato la sua compostezza e lo sguardo era tornato pungente «Ha un carattere debole signor commissario» disse «Non sarà mai capace di resistere alle donne come suo padre che mi ha fatto tanto soffrire» Maigret era seduto accanto a lei sul sedile posteriore del taxi Luca aveva preso posto di fianco all'autista strano oltrepassati i confini di Parigi sul territorio di Charenton il lungo Senna continuava a chiamarsi Che de Bersy ma non c'erano più alberi sull'altra sponda della Senna si ergevano le ciminiere delle fabbriche dal lato che stavano percorrendo magazzini e villette costruite quando quella era ancora quasi aperta campagna e ora soffocate dai condomini a un angolo della strada un caffè dipinto di un rosso acceso con un'insegna gialla qualche tavolino di ferro e due allori scheletrici piantati in mastelli di legno la signora Rois no le Rois si sporse in avanti e bussò al vetro siamo arrivati la prego di non badare al disordine inutile dirle che stamattina ho trascurato le faccende domestiche cercò la chiave nella borsa la porta era marrone scuro i muri esterni grigio fumo maigret ebbe il tempo di accertarsi che non ci fossero tracce di effrazione prego si accomodi penso che voglia vedere tutte le stanze guardi i frantumi della tazza sono ancora dove li ho trovati non mentiva quando diceva di tenere alla pulizia nell'appartamento non c'era un granello di polvere e regnava l'ordine più assoluto ma mio dio che casa triste più che triste lugubre un corridoio troppo stretto con le pareti dipinte di marrone in basso e di giallo ocra in alto porte marroni una carta da parati vecchia di vent'anni e talmente sbiadita da risultare ormai in colore la donna continuava a parlare forse parlava anche quando era sola non riuscendo a sopportare il silenzio la cosa la cosa più strana è che non ho sentito niente in genere ho il sonno così leggero che mi sveglio di continuo invece la notte scorsa ho dormito come un sasso mi chiedo Megre la guardò pensa che l'abbiano drogata per stordirla ma no è impossibile non avrebbe mai perché avrebbe dovuto farlo aveva di nuovo un tono aggressivo un momento sembrava accusare il figlio e il momento dopo lo presentava come una vittima mentre Megre lento e pesante anche mentre perlustrava il piccolo appartamento dava una sensazione di immobilità se ne stava semplicemente lì a impregnarsi a poco a poco come una spugna dell'atmosfera della casa e la donna gli stava alle calcagna osservava ogni suo gesto ogni suo sguardo sospettosa cercando di indovinare che cosa gli passasse per la testa anche Luca scrutava le mosse del capo disorientato da quell'inchiesta che aveva qualcosa di poco serio se non distrampalato la sala da pranzo è a destra in fondo al corridoio ma quando io e mio figlio siamo soli e siamo sempre soli mangiamo in cucina si sarebbe certo stupita forse indignata se avesse sospettato che l'unica preoccupazione del commissario in quel momento era cercare la sua pipa Megre si inerpicò su per la scala ancora più stretta del corridoio con la ringhiera malferma e i gradini scricchiolanti la padrona di casa lo seguì e poiché non poteva fare a meno di parlare spiegò la camera di Giosef era quella a sinistra Dio mio ho detto era come se lei non ha toccato niente niente glielo giuro come vede il letto è disfatto ma scommetto che mio figlio non ci ha dormito quando dorme infatti si agita parecchio e di solito al mattino trovo le lenzuola in disordine e le coperte per terra gli capita di parlare a voce alta e perfino di gridare nel sonno di fronte al letto c'era un armadio che Megre aprì gli abiti di suo figlio ci sono tutti no appunto altrimenti avrei trovato il vestito e la camicia sulla sedia perché è un tale disordinato forse durante la notte il giovanotto aveva sentito un rumore ed era sceso in cucina dove era stato aggredito dal o dai misteriosi visitatori l'ha visto a letto ieri sera vengo sempre a dargli il bacio della buonanotte ieri sera quando sono entrata in camera sua si era già spogliato i vestiti erano sulla sedia quanto alla chiave le venne in mente una cosa spiegò salgo sempre per ultima dopo aver chiuso a chiave la porta d'ingresso la chiave la tengo in camera mia sotto il guanciale per evitare suo marito passava spesso la notte fuori casa e lei in tono dignitoso e dolente l'ha fatto una volta dopo tre anni di matrimonio e da quel momento lei ha preso l'abitudine di custodire la chiave di casa sotto il guanciale la donna la donna non rispose e maigre fu certo che a padre e figlio fosse toccato lo stesso regime di sorveglianza stamattina la chiave era ancora al suo posto si signor commissario mi viene in mente solo ora ma è la prova che joseph non voleva andarsene giusto un momento suo figlio si è coricato poi si è alzato e si è rivestito guardi la cravatta se è a terra non se l'è messa e le scarpe la signora Leroy si girò di scatto verso un angolo della stanza dove l'una qui l'altra lì c'erano due scarpe consumate neanche quelle è uscito in pantofole maigre continuava a cercare la pipa senza trovarla del resto non sapeva di preciso che cos'altro cercare frugava a casaccio nella camera spoglia e tetra dove il giovanotto aveva vissuto nell'armadio un vestito blu il vestito buono quello da indossare la domenica e un paio di scarpe di vernice c'erano anche alcune camicie quasi tutte logore con il colletto e i polsini rivoltati e un pacchetto di sigarette aperto a proposito suo figlio fumava la pipa non gliel'avrei permesso alla sua età 15 giorni fa è tornato a casa con una pipetta doveva averla comprata su una bancarella perché era pacottiglia gliel'ho strappata di bocca e l'ho buttata nel fuoco suo padre in 45 anni non ha mai fumato la pipa Maigret sospirò andarono nella camera della signora Leroy che ripetè il letto è ancora disfatto scusi il disordine era tutto di una banalità squaldida e sconfortante di sopra c'è il sottotetto dove dormivamo durante i primi mesi della mia vedovanza quando avevo adibito la casa a pensione mi dica visto che non si è messo nelle scarpe e nella cravatta lei pensa che Giuseppe emegre e esasperato non ne so niente signora da due ore Luca perquisiva scrupolosamente l'abitazione fin nei minimi recessi seguito dalla signora Leroy che ogni tanto diceva guardi una volta quel cassetto è stato aperto hanno anche rivoltato la pila di biancheria che c'è sul ripiano superiore fuori splendeva il sole con raggi vischiosi come miele ma la casa era immersa nella penombra in un grigiore perpetuo Maigre continuava a fare la spugna senza avere il coraggio di seguire i suoi collaboratori nei loro andirivieni prima di lasciare il Quedezor Fevre aveva incaricato un ispettore di telefonare a Orléans per appurare se negli ultimi tempi la figlia sposata fosse venuta a Parigi ma non era la pista giusta si poteva supporre che Giuseppe si fosse fatto fare una copia della chiave all'insaputa della madre ma allora si aveva premeditato di andarsene quella notte perché non si era messo la cravatta e soprattutto le scarpe Ora Maigre sapeva come erano le famose pantofole per fare economia la signora Leruale confezionava con le sue mani utilizzando vecchi scampoli di tessuto e suole ritagliate da un pezzo di feltro tutto era povero di una povertà tanto più desolata e opprimente quanto più cercava di nascondersi gli ex pensionanti la signora Leruale gliene aveva parlato quando aveva affisso il cartello alla finestra il primo a presentarsi era stato un vecchio scapolo impiegato da Sustel una ditta che vendeva vino all'ingrosso Maigret ne aveva scorto il magazzino passando da Chede Bersy un tipo a modo ben educato signor commissario sempre che si possa definire ben educato un uomo che svuota la pipa dappertutto e poi aveva la mania di alzarsi di notte e scendere in cucina per farsi una tisana una volta mi sono alzata anch'io e l'ho incrociato per le scale in camicia da notte e mutandoni eppure era una persona istruita la seconda camera era stata occupata dapprima da un muratore un capomastro diceva lei ma il figlio avrebbe senza altro corretto quel titolo pretenzioso il muratore le faceva la corte e voleva sposarla a tutti i costi mi parlava sempre dei suoi risparmi di una casa che aveva nei pressi di Montluçon dove voleva portarmi dopo le nozze badi che non posso rimproverargli niente mai una parola o un gesto fuori posto quando rientrava gli dicevo si lavi le mani signor Germain e lui correva al rubinetto ha anche risistemato la pavimentazione del cortile lavorando di domenica e ho dovuto insistere per pagargli il cemento poi il muratore se n'era andato forse deluso ed era stato rimpiazzato da un certo signor Bloystein un forestiero parlava benissimo il francese ma con un lieve accento straniero faceva il commesso viaggiatore e dormiva qui solo una o due volte a settimana i pensionanti avevano la chiave no signor commissario perché all'epoca io ero sempre a casa quando dovevo uscire la nascondevo in una fessura della facciata dietro la grondaia e loro sapevano dove trovarla da un giorno all'altro il signor Bloystein non è più tornato in camera sua ha lasciato solo un pettine rotto un vecchio accendino e della biancheria logora non l'aveva avvertita no eppure anche lui era un uomo ben educato in un angolo della sala da pranzo c'era una macchina per cucire con sopra alcuni libri maigreli sfogliò distrattamente erano edizioni economiche per lo più romanzi d'avventura qua e là sui margini delle pagine si vedevano due iniziali intrecciate a volte scritte a matita a volte a penna J e M la M è quasi sempre più grande e più elaborata della J conosce qualcuno il cui nome inizia per M signora Leroy gridò dalla tromba delle scale per M? no non mi pare aspetti c'era la cognata di mio marito che si chiamava Marcel ma è morta di parto a Yves-Fouden era mezzogiorno quando Luka e Maigret si ritrovarono fuori andiamo a bere qualcosa capo? e si sedettero a un tavolo del piccolo caffè rosso all'angolo della strada erano tutti e due emoji anzi Luka era proprio di cattivo umore che razza di casa sospirò a proposito ho trovato questo bigliettino e sa dove? nel pacchetto di sigarette del ragazzo doveva fargli una paura del diavolo sua madre per nascondere le lettere d'amore nei pacchetti di sigarette in effetti era una lettera d'amore caro Joseph ieri mi hai dato un dispiacere dicendomi che ti disprezzavo e che non avrei mai accettato di sposare un uomo come te sai bene che non è così e che ti amo come tu ami me sono certa che un giorno diventerai qualcuno ma ti prego non aspettarmi più davanti al negozio ti hanno visto e la signora Rose che ha pure lei un corteggiatore ma è una megera non si è risparmiata i commenti d'ora in poi vediamoci alla fermata del metro ma domani no perché viene a prendermi mia madre per portarmi dal dentista mi raccomando non ti mettere strane idee in testa ti bacio con tutto il mio amore Mathilde eccole disse McGray cacciando la lettera nel portafoglio eccole cosa la J e la M ah la vita si comincia così e si finisce in un piccolo appartamento che puzza di chiuso e di rassegnazione se penso che quel bel tomo mi ha sgraffignato la pipa ma lei crede davvero che sia stato rapito Luca non ci credeva era evidente come non credeva a tutte le storie della Leroy ne aveva già abbastanza di quel caso e cercava di capire che cosa passasse per la testa del commissario che sembrava profondamente assorto se non mi avesse sgraffignato la pipa cominciò McGray e con questo che cosa dimostrerebbe non puoi capire sarei più tranquillo cameriere quanto le devo aspettarono l'autobus l'uno accanto all'altro guardando il lungo Senna quasi deserto dove a quell'ora i bracci delle gru erano fermi in aria e le chiatte sembravano sonnecchiare sull'autobus Luca disse non torna a casa preferisco fare un salto al che e a un tratto ridacchiando con la pipa fra i denti poveraccio penso al maresciallo che magari ha tradito la moglie una sola volta nella vita e per il resto dei suoi giorni si è ritrovato chiuso a chiave ogni notte in casa sua poi dopo aver riflettuto un istante Luca hai mai notato che nei cimiteri ci sono molte più tombe di vedove che di vedovi qui giace Tizio deceduto nel 1901 e sotto un'incisione più recente qui giace caia vedova Tizio deceduta nel 1930 l'ha raggiunto certo ma 29 anni dopo Luca non tentò di capire e cambiò autobus per andare a casa a pranzare con la moglie mentre al casellario giudiziale erano intenti a spulciare tutti i Bloystein che potevano aver avuto qualche problema con la giustizia Maigret si occupò della normale amministrazione e Luca trascorse buona parte del pomeriggio nel quartiere Repubblic il temporale tardava a scoppiare il caldo era sempre più opprimente con un cielo plumbe o violaceo come un brutto foruncolo almeno una decina di volte Maigret aveva allungato istintivamente la mano senza trovare la pipa buona e ogni volta aveva borbottato diavolo di un ragazzino aveva fatto anche un paio di chiamate al centralino ancora nessuna notizia di Luca eppure non era così complicato interrogare i colleghi di Joseph Leroy e magari strappare loro qualche informazione su quella Mathilde che gli scriveva messaggi amorosi per cominciare Joseph aveva rubato la pipa di Maigret poi la notte precedente benché vestito di tutto punto era in pantofole ammesso che le sue potessero chiamarsi pantofole Maigret interruppe di colpo la lettura di un verbale si fece passare il casellario e con un'impazienza per lui insolita chiese allora questi bluestein ci stiamo lavorando commissario ce n'è una caterva tra veri e falsi stiamo controllando le date i domicili in ogni caso finora non ne risulta neanche uno che abbia mai abitato in Chede Bersì se trovo qualcosa l'avverto subito alla fine arrivò Luca un Luca sudato che prima di salire era passato alla Brasserie Dauphin a bere una birra ci siamo capo e non è stato facile glielo assicuro pensavo che me la sarei cavata con poco figuriamoci il nostro Giosef è un tipo strano uno che non dà confidenza a nessuno immagini un salone di barbiere lungo e stretto Palasco a Fure così si chiama con quindici o venti poltrone schierate in fila davanti agli specchi e altrettanti dipendenti una bolgia dalla mattina alla sera questo entra quello esce e intanto io taglio tu in saponi lui friziona Giosef mi fa il proprietario un omino tra cagnotto e brizzolato ma di quale Giosef parla? ah sì quello con i brufoli e allora che cosa ha fatto Giosef? gli chiedo il permesso di interrogare i suoi impiegati e così mi tocca passare di poltrona in poltrona fra sorrisi e strizzatine d'occhio generali Giosef no non siamo mai usciti insieme se ne stava sempre per i fatti suoi un'amichetta dice è possibile anche se con quella faccia e giurisate confidenze? tanto valeva aspettarsene da un cavallo di legno il signorino si vergognava di fare il barbiere e non si abbassava a frequentare noi colleghi capito il tono? per giunta ogni volta dovevo aspettare che finissero con il cliente il proprietario cominciava a guardarmi storto alla fine arriva il turno della cassiera una donna sulla trentina rotondetta dall'aria molto dolce molto sentimentale Giosef ha fatto qualche sciocchezza? mi chiede subito no signorina tutt'altro aveva un filarino nel quartiere vero? Megre borbottò taglia corto per favore sì tanto più che è ora di andare se vuole vedere la ragazzina per farla breve era tramite la cassiera che Giosef riceveva i bigliettini quando la sua Matilde non poteva presentarsi all'appuntamento quello che ho scovato nel pacchetto di sigarette doveva essere dell'altro ieri un bambino entrava di corsa nel salone e lasciava il foglietto alla cassa mormorando per il signor Giosef fortunatamente la cassiera ha visto il marmocchio in questione entrare più volte in una pelletteria di Boulevard Bonnouvelle e così passo dopo passo ho rintracciato Matilde non le hai detto niente spero non sa neanche che mi sto occupando di lei ho solo chiesto al proprietario della pelletteria se avesse un'impiegata di nome Matilde lui me l'ha indicata dietro il bancone voleva chiamarla ma l'ho pregato di non farlo ora se vuole sono le 5 e mezzo tra mezz'ora il negozio chiude mi scusi signorina no signore solo una parola la prego di lasciarmi in pace una ragazzetta minuta piuttosto graziosa del resto che credeva a me gre volesse pazienza polizia come? ed è con me che? sì vorrei scambiare due chiacchiere con lei a proposito del suo innamorato Giuseppe che cosa ha fatto? non lo so signorina ma mi piacerebbe sapere dov'è in questo momento e nello stesso istante pensò che errore accidenti aveva sbagliato come un pivellino se ne rese conto vedendola guardarsi intorno preoccupata come gli era venuto in mente di parlarle invece di seguirla la ragazza non aveva forse un appuntamento con Giuseppe alla fermata del metro non si aspettava di trovarlo lì non stava evidentemente rallentando il passo invece di proseguire per la sua strada immagino che sia al lavoro come al solito no signorina e credo che lei lo sappia anche meglio di me che cosa intende dire? sui gran boulevard era l'ora di punta fiumi di folla si dirigevano in processione verso gli ingressi del metro dove venivano inghiottiti fermiamoci un momento qui le dispiace? disse costringendola a rimanere nei pressi della fermata la ragazza era sulle spine si capiva non smetteva di girare la testa in tutte le direzioni aveva la freschezza dei 18 anni il visetto tondo il piglio della giovane parigina chi le ha parlato di me? non ha importanza che cosa sa di Giosef? che cosa vuole che sappia? anche il commissario scrutava la folla pensando che se Giosef l'avesse visto con Mathilde con ogni probabilità si sarebbe affrettato a squagliarsela il suo innamorato ha mai alluso a un imminente cambiamento della sua condizione? coraggio sta per mentirmi lo sento perché dovrei mentire? si era morsa le labbra lo vede? mi fa domande per avere il tempo di inventarsi una bugia la ragazza batte il piede per terra innanzitutto chi mi dice che lei sia davvero un poliziotto? Megre le mostrò il tesserino Giosef soffriva della modestia della sua condizione lo ammetta e con questo? ne soffriva terribilmente in modo esagerato può darsi che non avesse voglia di fare l'apprendista barbiere per tutta la vita è forse un delitto? sa bene che non volevo dire questo odiava la casa in cui abitava l'esistenza che conduceva si vergognava anche di sua madre non è vero? non me l'ha mai detto ma lei lo intuiva insomma negli ultimi tempi le avrà senz'altro parlato di una possibile svolta nella sua vita no? da quanto tempo vi conoscete? poco più di sei mesi era inverno è entrato in negozio per comprare un portafoglio ho capito che gli sembravano troppo costosi ma non ha osato dirmelo e ne ha scelto uno la sera l'ho intravisto sul marciapiede mi ha seguita per parecchi giorni prima di trovare il coraggio di rivolgermi la parola dove vi incontravate? di solito ci vedevamo solo per pochi minuti in strada qualche volta mi accompagnava in metro fino alla fermata Championet dove abito ci è capitato di andare al cinema la domenica ma era difficile per via dei miei genitori siete mai andati da lui quando sua madre non c'era? mai glielo giuro una volta mi ha voluto mostrare casa sua da lontano per farmi capire che era molto infelice vede? ha fatto qualcosa di male? ma no signorina è solo scomparso e conto un po' su di lei non molto lo ammetto per ritrovarlo inutile chiederle se aveva una camera in città si vede che non lo conosce del resto non aveva abbastanza soldi consegnava tutto lo stipendio alla madre e lei gli lasciava solo qualche spicciolo per comprarsi le sigarette a russì quando andavamo al cinema pagavamo ciascuno il proprio biglietto e una volta che continui dio mio perché no in fondo non c'è niente di male una volta un mese fa siamo andati in campagna e lui non aveva i soldi per pagare il pranzo dove siete andati? sulla Marna siamo scesi dal treno a Scelle e abbiamo fatto una passeggiata tra il fiume e il canale la ringrazio signorina era sollevata di non aver visto Giuseppe tra la folla delusa forse entrambe le cose come mai lo cerca la polizia? ce l'ha chiesto la madre non si preoccupi signorina e mi dia retta se ha sue notizie prima di noi ci avverta subito quando si voltò la vide scendere esitante i gradini del metro sulla sua scrivania del Kedesorfèvre lo aspettava una scheda un individuo di nome Bloystein Stefan di anni 37 è stato ucciso il 15 febbraio 1919 a Nizza in una camera dell'hotel negresco dove aveva preso alloggio qualche giorno prima Bloystein riceveva visite piuttosto frequenti spesso a tarda notte il delitto è stato commesso con un revolver calibro 6.35 che non è mai stato ritrovato l'inchiesta condotta all'epoca non ha portato all'identificazione del colpevole l'assassino aveva frugato da cima a fondo i bagagli della vittima e il mattino la camera è stata trovata in un disordine indescrivibile riguardo a Bloystein la sua personalità è rimasta alquanto misteriosa e le ricerche effettuate non hanno permesso di appurare dove abitasse si sa solo che è arrivato a Nizza con il rapido proveniente da Parigi la squadra mobile di Nizza potrebbe essere in possesso di informazioni più dettagliate la data dell'omicidio corrispondeva a quella della sparizione del Bloystein di Chede Bersi e Maigret cercando ancora una volta la pipa buona e non trovandola borbottò stizzito stupido ragazzino capitolo terzo ricerche nell'interesse delle famiglie ci sono ritornelli che ti si ficcano in testa durante un viaggio per esempio in treno e si adattano così bene al ritmo dell'andatura che non te ne liberi più Maigret era a bordo di un taxi cigolante quando cominciò a essere perseguitato da una frase scandita dal rumore della pioggia che martellava la capote ricerche nell'interesse delle famiglie ricerche nell'interesse d'altra parte il commissario non aveva alcun motivo di trovarsi in macchina su quella strada buia di fianco a una ragazzina pallida e tesa e con il docile Luca seduto sullo strapuntino quando ti piomba in ufficio un tipo come la signora Leroy devi troncare sul nascere le sue lagne le hanno rubato qualcosa signora? sporge denuncia? no? allora mi dispiace ma... e se scompare il figlio? dunque è uscito e non è più tornato? se dovessimo cercare tutte le persone che si allontanano da casa faremmo solo questo e i poliziotti in servizio neppure basterebbero ricerche nell'interesse delle famiglie si chiamano così e vengono fatte a spese di coloro che le richiedono quanto ai risultati a presentarsi sono sempre brave persone vecchi o giovani uomini o donne facce oneste con lo sguardo mite un po' smarrito il tono insistente e umile le assicuro signor commissario che mia moglie e io la conosco meglio di chiunque altro non se n'è andata di sua spontanea volontà o la figlia mia figlia così ingenua così cara così di richieste del genere ne arrivavano ogni giorno a centinaia ricerche nell'interesse delle famiglie come spiegare ai parenti che non gli conviene ritrovare la moglie o la figlia o il marito perché il loro ritorno sarebbe una grande elusione ricerche nell'interesse ancora una volta Maigret si era fatto incastrare l'auto aveva lasciato Parigi e avanzava sulla statale fuori dal territorio di competenza della polizia giudiziaria che ci andava a fare non gli avrebbero rimborsato neanche le spese e tutto a causa di una pipa il temporale era scoppiato mentre scendeva dal taxi davanti alla casa di Chede Bersy quando aveva suonato il campanello la signora Leroy stava mangiando da sola in cucina pane e burro con una ringa affumicata nonostante le sue preoccupazioni aveva tentato di nascondere la ringa riconosce quest'uomo signora e lei senza esitare ma in tono stupito è il mio ex pensionante il signor Bloystein strano in questa foto è vestito come un come un uomo di mondo sì mentre a Charenton aveva l'aria di essere un poveraccio e dire che avevano dovuto farsi dare la fotografia dall'archivio di un grande giornale perché chissà per quale motivo in quelli della polizia non si trovava che cosa significa signor commissario dov'è quest'uomo cosa ha fatto è morto mi dica cominciò mentre lanciava un'occhiata circolare alla stanza dove gli armadi e i cassetti erano stati vuotati vedo che ha avuto la mia stessa idea la donna arrossì mettendosi subito sulla difensiva ma quella sera il commissario aveva poca pazienza ha fatto l'inventario di tutto quello che c'è in casa non lo neghi voleva capire se suo figlio si è portato via qualcosa non è vero risultato niente glielo giuro non manca niente che cosa pensa dove va maigret si era affrettato a uscire ed era risalito sul taxi altro tempo perso e in modo stupido nel pomeriggio in boulevard bonne nouvelle aveva parlato con la ragazza ma non gli era venuto in mente di appuntarsi il suo indirizzo e ora aveva bisogno di lei per fortuna il pellettiere abitava sopra il negozio di nuovo in taxi grosse gocce crepitavano sul marciapiede i passanti correvano la macchina sbandava rue Champigny 67 aveva fatto irruzione in una stanzetta dove quattro persone padre madre figlia e un ragazzino sui 12 anni mangiavano intorno a un tavolo rotondo Matilde era scattata in piedi atterrita trattenendo un grido chiedo scusa ho bisogno di vostra figlia per il riconoscimento di un cliente che ha visto il negozio vuole essere così gentile da seguirmi signorina ricerche nell'interesse delle famiglie ah è tutto più facile quando ti trovi davanti un bel cadavere che ti dà subito qualche indizio o quando corri dietro a un assassino di cui puoi in qualche modo prevedere le reazioni con i dilettanti invece quello piange quell'altro trema e bisogna fare attenzione al papà o alla mamma dove andiamo a shell crede che sia lì non so assolutamente nulla signorina poi rivolto al tassista prima facciamo un salto al che desorfevre e là aveva preso a bordo Luca che lo aspettava ricerche nell'interesse delle famiglie era seduto in macchina con Matilde che tendeva a scivolare verso di lui grosse gocce di pioggia si infiltravano nelle fessure della vecchia capote e gli cadevano sul ginocchio sinistro di fronte a sé vedeva la punta incandescente della sigaretta di Luca se la ricorda bene shell signorina oh sì diamine era il più bel ricordo della sua storia d'amore l'unica volta che lei e Giuseppe si erano allontanati da Parigi e avevano corso insieme nell'erba alta lungo il fiume pensa di poterci guidare anche se è buio credo di sì purché partiamo dalla stazione sa ci siamo andati in treno mi ha detto che avete pranzato in una locanda sì una locanda pidocchiosa talmente sporca e lugubre da far quasi paura avevamo imboccato un viale che costeggiava la marna a un certo punto il viale è diventato un sentiero aspetti sulla sinistra c'era una calcara abbandonata e più in là saranno stati i 500 metri una piccola costruzione a due piani ci siamo stupiti di trovarcela davanti siamo entrati a destra un bancone di zinco pareti intonacate a calce con sopra certe brutte stampe un paio di tavoli di ferro e qualche sedia il tizio intende dire il locandiere sì un tipo basso con i capelli scuri che a vederlo era tutto un programma sa com'è a volte ci si fa un'idea sbagliata abbiamo chiesto se potevamo mangiare e ci ha servito patè salame poi del coniglio riscaldato tutto molto buono si è seduto a chiacchierare con noi e ci ha spiegato che i suoi clienti erano per lo più pescatori infatti in un angolo erano ammucchiate delle canne da pesca quando non sai le cose ti fai delle idee sbagliate è qui chiese Maigret attraverso il vetro perché l'autista si era fermato una stazioncina qualche luce nell'oscurità a destra disse la ragazza poi al secondo incrocio di nuovo a destra è lì che abbiamo chiesto informazione sulla strada da prendere ma perché pensa che Joseph sia venuto qui per nessun motivo o meglio a causa della pipa ma questo Maigret non aveva il coraggio di dirlo ricerche nell'interesse delle famiglie c'era da farsi ridere dietro eppure ora sempre dritto fino al fiume disse Matilde all'autista c'è un ponte ma invece di attraversarlo giri a sinistra stia attento la strada è stretta allora figliola è vero o no che negli ultimi tempi Joseph le ha parlato di un possibile o perfino probabile cambiamento nella sua posizione in futuro forse sarebbe diventata coriacea come la signora Leroy dopo tutto anche la madre di Joseph doveva essere stata giovane affettuosa e magari anche carina è un ragazzo ambizioso non parlo di un avvenire lontano ma di una svolta imminente aspirava a diventare qualcosa di più di un barbiere e si aspettava di intascare dei soldi è così? era un supplizio per lei aveva una paura matta di tradire il suo Joseph la macchina avanzava con cautela lungo la strada dissestata che costeggiava la marna sul lato sinistro si vedevano alcune casette scalcinate e qualche villa più pretenziosa ogni tanto una luce o un cane che abbaiava poi d'un tratto a circa un chilometro dal ponte le buche sulla carreggiata si fecero più profonde l'autista si fermò annunciando impossibile proseguire in auto pioveva a dirotto quando scesero dalla macchina furono investiti dall'acquazzone tutto era bagnato fangoso il terreno che scivolava sotto i piedi e i cespugli che li sfioravano al passaggio un po' più avanti furono costretti ad avanzare in fila indiana mentre l'autista brontolava nel taxi forse preparandosi a schiacciare un sonnellino è strano mi pareva che fosse più vicino neanche lei vede la locanda vero? la marna scorreva a pochissima distanza i loro piedi affondavano nelle pozzanghere Maigret camminava in testa scostando i rami Mathilde lo seguiva come un'ombra e Luca chiudeva la fila con l'indifferenza di un terranova la ragazza cominciava a essere preoccupata eppure ho riconosciuto il ponte e la calcara non posso essermi sbagliata ci sono buoni motivi perché oggi la strada le sembri più lunga di quando è venuta con Joseph grugnì Maigret guardi a sinistra si intravede una luce deve essere la locanda silenzio cerchi di non far rumore pensa che e lui in tono improvvisamente brusco non penso proprio niente signorina non penso mai niente si lasciò affiancare e disse sottovoce a Luca aspetta qui con lei venite solo se vi chiamo poi rivolto a Mathilde guardi bene da questo punto si scorge la facciata la riconosce si è la locanda ne sono sicura la schiena massiccia di Maigret si interpose subito fra lei e la luce lontana e la ragazza si ritrovò sola con i vestiti zuppi nel cuore della notte sotto la pioggia sulla sponda del fiume insieme a un uomo che non conosceva e che fumava impassibile una sigaretta dopo l'altra capitolo quarto il ritrovo dei pescatori Mathilde non aveva esagerato dicendo che il luogo era poco rassicurante addirittura lugubre una specie di pergolato sbilenco si addossava alla casupola dai vetri opachi e con le imposte chiuse la porta era aperta dato che il temporale cominciava appena a rinfrescare l'aria una luce giallastra rischiarava il pavimento sporco Maigret emerse di colpo dal buio stagliandosi più imponente del solito nel vano della porta senza togliersi la pipa dalla bocca si toccò il cappello e disse buonasera signori due uomini parlavano seduti a un tavolo di ferro con sopra una bottiglia di acquavite e dei bicchieri di vetro spesso uno dei due un tizio basso con i capelli scuri e i maniche di camicia sollevò la testa con aria tranquilla e un po' stupita si alzò sistemandosi i pantaloni sui fianchi e mormorò buonasera l'altro era seduto di spalle ma con ogni evidenza non si trattava di Joseph Leroy era alto e corpulento e indossava un vestito di un grigio molto chiaro stranamente data l'ora insolita di quell'irruzione l'uomo non muoveva un muscolo sembrava perfino che trattenesse il respiro l'orologio pubblicitario di ceramica appeso al muro segnava mezzanotte e dieci ma doveva essere più tardi possibile che non provasse la curiosità di girarsi a guardare il visitatore Maigret rimase in piedi accanto al bancone mentre l'acqua gli sgocciolava dagli abiti formando delle chiazze scure sul pavimento grigio ha una camera libera per guadagnare tempo il locandiere prese posto dietro al bancone e indicando le mensole che contenevano solo tre o quattro bottiglie impolverate disse le servo qualcosa come vuole le ho chiesto se ha una camera purtroppo o no è venuto a piedi questa volta fu Maigret a cambiare discorso un'acquavite disse mi sembrava di aver sentito il rumore di un'auto è possibile ce l'ha o no una camera a qualche metro da lui c'era sempre quella schiena una schiena talmente immobile da sembrare scolpita nella pietra la locanda era priva di luce elettrica e la stanza era rischiarata da un vecchio lume a petrolio se l'uomo non si era voltato se si ostinava a restare in quella posa rigida e contratta il commissario non era tranquillo fece un rapido calcolo considerate le dimensioni della sala e della cucina che si scorgeva sul retro al piano di sopra dovevano esserci almeno tre camere a giudicare dal proprietario dall'aspetto squallido della locanda dal disordine e dallo stato di abbandono in cui versava Megre avrebbe scommesso che in casa non c'erano donne eppure sopra la sua testa qualcuno camminava a passi furtivi e la cosa era in qualche modo sospetta perché il proprietario alzò istintivamente lo sguardo al soffitto con aria contrariata ha molti ospiti in questo momento? nessuno a parte indicò l'uomo o piuttosto la schiena immobile e a un tratto Megre ebbe la percezione di un grave pericolo capì di dover agire molto in fretta senza sbagliare una mossa ebbe il tempo di vedere la mano dell'uomo avvicinarsi al lume posato sul tavolo e fece un balzo in avanti troppo tardi il lume si era schiantato al suolo con un rumore di vetri infranti mentre l'odore di petrolio si diffondeva nella sala lo sapevo che dovevi essere una vecchia conoscenza carogna era riuscito ad afferrare l'uomo per la giacca tentava di migliorare la presa ma l'altro lo colpiva per liberarsi erano immersi nell'oscurità dal rettangolo della porta filtrava solo un fioco chiarore notturno che cosa faceva il proprietario intendeva accorrere in aiuto del suo cliente Megre colpì a sua volta poi sentendosi mordere la mano si gettò con tutto il suo peso sull'avversario e i due rotolarono sul pavimento tra i frammenti di vetro Luca gridò Megre con quanto fiato aveva in corpo Luca l'uomo era armato il commissario percepiva la sagoma dura di una pistola nella tasca della giacca e cercava di impedire che la mano del suo avversario si introducesse in quella tasca il proprietario della locanda non interveniva non faceva alcun rumore doveva starsene immobile forse indifferente dietro al bancone Luca arrivo fuori Luca correva tra le pozzanghere e le buche ripetendo non si muova per nessun motivo mi ha sentito le proibisco di seguirmi si rivolgeva senz'altro a Mathilde che doveva essere pallida di terrore se ti azzardi di nuovo a mordere ti spacco la faccia hai capito farabutto il gomito di Megre impediva alla pistola di uscire dalla tasca l'uomo non era meno robusto di lui al buio da solo forse il commissario non avrebbe potuto tenergli testa a lungo avevano urtato contro il tavolo che si era rovesciato qui Luca la torcia presto eccola un fascio di luce bianca rischiarò di colpo i due uomini avvinghiati nella lotta per bacco guarda chi si vede Nicolà cosa crede che io non l'avessi già riconosciuta mi è bastato sentire la voce dammi una mano Luca il mascalzone è pericoloso ci vuole una bella botta per tenerlo buono vai giù pesante non ti preoccupare è un osso duro e Luca abbatté con tutta la sua forza il manganello di gomma sulla testa dell'uomo mettigli le manette chi se l'aspettava di trovare qui questa canaglia ecco fatto ora puoi alzarti Nicolà è inutile che fingi di essere svenuto ci vuole ben altro per stenderti ma dov'è finito il proprietario dovette chiamarlo due volte e fece uno strano effetto sentire cheggiare nell'oscurità dal lato del bancone la voce tranquilla del locandiere mi dica non c'è un altro lume o una candela in casa vado a prenderle una candela diriga la torcia verso la cucina per favore Megre si avvolse il fazzoletto intorno alla mano che l'altro gli aveva morso con violenza qualcuno si inghiozzava accanto alla porta doveva essere Mathilde che non capiva cosa stesse accadendo e forse pensava che fosse Joseph la persona a cui il commissario entri figliola non abbia paura il peggio è passato tu Nicolà si additi qui e se ti azzardi a muoverti posò la sua pistola e quella del suo aggressore su un tavolo a portata di mano il proprietario della locanda tornò con una candela calmo come se non fosse successo niente ora gli disse Megre portami il giovanotto l'uomo ebbe un momento di esitazione avrebbe finto di cadere dalle nuvole ti ho detto di portarmi il giovanotto hai capito e mentre il locandiere si avviava verso le scale ce l'ha una pipa almeno tra un singhiozzo e l'altro la ragazza chiese ma lei è sicuro che Joseph sia qui e che non gli sia accaduto nulla Megre non rispose e tese l'orecchio al piano di sopra il proprietario aveva bussato a una porta parlava sottovoce in tono insistente si coglievano frammenti di frasi ci sono due signori e una signorina che vengono da Parigi può aprire le assicuro che e Matilde in lacrime se l'hanno ucciso Megre scrollò le spalle e si diresse a sua volta verso le scale tieni d'occhio l'energumeno Luca hai riconosciuto il nostro vecchio amico Nicolà vero? e io che lo credevo ancora nelle patrie galere salì lentamente i gradini e prese il posto del proprietario dietro la porta sono io Giuseppe il commissario Megre apra giovanotto e allo candiere che cosa aspetta a scendere lei vada a servire da bere alla ragazza un grog qualcosa che la rimetta in sesto allora Giuseppe alla fine la chiave girò nella serratura Megre spinse la porta non c'è luce? un momento vado ad accendere è rimasto un mozzicone di candela le mani di Giuseppe tremavano quando la fiammella lo rischierò il suo viso aveva un'espressione terrorizzata è ancora da basso? sussurrò poi un profluvio di frasi confuse di domande che si accavallavano come ha fatto a trovarmi? che cosa le hanno detto? chi è la ragazza? una camera rustica con il letto molto alto disfatto e un cassettone che in precedenza doveva essere stato spinto davanti alla porta come durante un assedio in piena regola dove li ha messi? chiese Maigret con l'aria più naturale del mondo Giuseppe lo fissò sbalordito capendo che il commissario sapeva tutto se avesse visto il rompere nella stanza il padre eterno in persona avrebbe avuto la stessa espressione con gesti febbrili frugò nella tasca posteriore dei pantaloni e ne tirò fuori un piccolo involto di carta di giornale aveva i capelli in disordine i vestiti stazzonati il commissario gli guardò istintivamente i piedi calzavano pantofoli informi la mia pipa il ragazzo sembrava sul punto di scoppiare a piangere e contraeva le labbra in una smorfia infantile Maigret ebbe addirittura l'impressione che volesse mettersi in ginocchio per chiedere perdono calma giovanotto gli raccomandò c'è gente da basso e sorridendo prese la pipa che Giuseppe gli tendeva tremando come una foglia Shhh sta salendo Mathilde non ha la pazienza di aspettare che scendiamo noi si dia una pettinata sollevò la brocca per versare un po' d'acqua nel catino ma era vuota niente acqua chiese stupito il commissario l'ho bevuta ma certo era ovvio come aveva fatto a non pensarci quel volto pallido i lineamenti tirati lo sguardo quasi vitreo ha fame? e senza girarsi rivolto a Mathilde di cui percepiva la presenza nel buio del pianerottolo entri figliola se vuole un consiglio non esageri con le effusioni la ama certo ma credo che prima di tutto abbia bisogno di mangiare capitolo quinto la fuga rocambolesca di Giuseppe adesso sì che era piacevole sentire la pioggia tamburellare sulle foglie degli alberi circostanti e soprattutto ricevere attraverso la porta spalancata il soffio umido e fresco della notte nonostante la fame Giuseppe aveva stentato a mangiare il sandwich al patè che il locandiere gli aveva preparato doveva avere un nodo alla gola e ogni tanto il pomo di Adamo riprendeva a fargli su e giù Magret invece era al suo secondo o terzo bicchierino di acquavite e fumava la pipa buona finalmente ritrovata sia chiaro che non intendo affatto incoraggiarla al furto giovanotto ma se non mi avesse sgraffignato la pipa credo proprio che un giorno o l'altro avremmo ritrovato il suo corpo tra le canne della marna la pipa di Magret eh il tono lasciava trapelare una certa soddisfazione come se l'orgoglio del commissario fosse stato piacevolmente solleticato la sua pipa era stata rubata quasi fosse la penna di un grande romanziere il pennello di un celebre pittore il fazzoletto o un gingillo di una diva Magret questo l'aveva capito fin dal primo momento ricerche nell'interesse delle famiglie un caso di cui non avrebbe neanche dovuto occuparsi ma poi un giovanotto insofferente della propria indigenza gli aveva sgraffignato la pipa e la notte seguente era scomparso per di più dopo aver provato a dissuadere la madre dal rivolgersi alla polizia perché voleva farle lui le indagini perbacco perché si sentiva all'altezza perché con la pipa di Magret fra i denti credeva di quando hai capito che il misterioso visitatore cercava i diamanti Joseph fu tentato di mentire per darsi arie ma dopo aver lanciato un'occhiata a Mathilde ci ripensò non sapevo che fossero diamanti però doveva essere per forza qualcosa di piccolo perché frugava nei posti più angusti aprendo perfino le boccette delle medicine senti un po' Nicolà ehi Nicolà il prigioniero accasciato su una sedia in un angolo con le mani sulle ginocchia i polsi bloccati dalle manette guardava fisso davanti a sé con aria rabbiosa quando hai ucciso bloystein a nizza Nicolà non batte ciglio il suo viso ossuto rimase immobile mi senti sto parlando con te quando hai fatto fuori bloystein al negresco non hai capito che ti stava infinocchiando ti rifiuti di vuotare il sacco va bene arriverà il momento che balla ti ha raccontato bloystein che i diamanti erano in chede bersì certo ma avresti dovuto immaginarlo che quelle pietruzze potevano essere ficcate in qualsiasi posto ti aveva indicato un nascondiglio sbagliato o forse hai creduto di essere più furbo di quello che sei no non ti disturbare a rispondere neanche te lo chiedo da dove provenivano i diamanti sapremo tutto domani quando i periti li avranno esaminati sei stato sfortunato però proprio in quel momento ti hanno messo dentro per una vecchia faccenda qual era l'accusa? furto con scasso in boulevard Saint-Martin se non sbaglio una giovilleria tanto per cambiare quando ci si specializza vero? ti sei beccato tre anni così tre mesi fa tornato a piede libero hai cominciato a ronzare intorno alla casa di chede bersì avevi la chiave che Bloystein si era fatto duplicare non dici niente? va bene come vuoi i due giovani lo guardavano stupiti non riuscivano a capire l'improvviso buon umore di Maigret perché non sapevano quanto fosse stato preoccupato nelle ultime ore vedi Giuseppe? ma si ti do del tu era tutto abbastanza semplice uno sconosciuto che si introduce in una casa dopo tre anni che lì non si affittano più camere ho pensato subito a qualcuno che era appena uscito di prigione una malattia non sarebbe durata tre anni se avessi esaminato gli elenchi delle ultime scarcerazioni avrei individuato facilmente il nostro amico Nicolà hai da accendere Luca? i miei fiammiferi si sono bagnati e ora Giuseppe raccontaci come è andata quella famosa notte avevo deciso di scoprire che cosa cercavano pensavo che ci fosse in ballo qualcosa di molto prezioso e che potesse essere una buona occasione e siccome tua madre mi aveva immischiato nella faccenda volevi risolverla a ogni costo entro quella notte Giuseppe di Adamo gli andava su e giù a ritmo accelerato desideravo tanto vivere in modo diverso balbettò a voce talmente bassa che si udì appena sei sceso in pantofole perché eri così sicuro di trovare il nascondiglio proprio quella notte perché avevo già frugato in tutte le stanze e mi restava solo la sala da pranzo avevo diviso la casa in settori doveva essere per forza lì nonostante l'atteggiamento dimesso e scorato la sua voce tradì un certo orgoglio quando disse e l'ho trovato dove? forse avrà notato che nella sala da pranzo c'è un vecchio lampadario a gas con finte candele di porcellana non so come mi è venuta l'idea di svitare le candele dentro c'erano dei pacchettini di carta che contenevano qualcosa di duro un momento quando sei sceso dalla tua camera che cosa contavi di fare qualora fossi riuscito nel tuo intento non lo so avevi in mente di filartela no glielo giuro allora di nascondere il malloppo da qualche altra parte sì sempre in casa no mi aspettavo che lei facesse una perquisizione ed ero certo che avrebbe trovato le pietre pensavo di portarle nel salone dove lavoro e poi con il tempo Nicolà sogghignò il proprietario appoggiato con i gomiti al bancone ascoltava immobile e la sua camicia disegnava una macchia bianca nella penombra dopo che hai scoperto il nascondiglio stavo rimettendo a posto l'ultima candela quando ho sentito che c'era qualcuno nella stanza sulle prime ho creduto che fosse la mamma ho spento la torcia elettrica con cui mi facevo luce ho intravisto un uomo che si avvicinava allora mi sono slanciato verso la porta e sono uscito in strada avevo una paura tremenda mi sono messo a correre la porta si è richiusa con violenza ero in pantofole senza cappello e senza cravatta ho continuato a correre ma sentivo un rumore di passi dietro di me non sei abbastanza veloce per questo giovane levriero Nicolà ridacchiò Megret in Plastella Bastille ho incrociato alcuni agenti di ronda ho pensato che se mi fossi tenuto a poca distanza da loro l'uomo non avrebbe osato aggredirmi così sono arrivato nei pressi della Garde Lest dove mi è venuta l'idea l'idea di Shell certo un ricordo piacevole e poi sono rimasto nella sala d'attesa della stazione fino alle 5 del mattino c'era un discreto via vai e finché avevo gente intorno ho capito solo che non sapevo chi fosse il mio inseguitore guardavo le persone l'una dopo l'altra quando hanno aperto la biglietteria mi sono intruffolato tra due signore ho chiesto il biglietto sottovoce c'erano parecchi treni che partivano pressa poco alla stessa ora sono salito su uno a caso scendendo sul marciapiede opposto poi su un altro e un altro ancora a quanto pare Nicolà a te questo ragazzino ha dato ancora più filo da torcere che a me finché non sapeva per dove avevo preso il biglietto ascello ho aspettato che il treno si rimettesse in moto e poi sono saltato giù niente male niente male mi sono precipitato fuori dalla stazione la strada era deserta ho ripreso a correre non sentivo nessuno dietro di me sono arrivato qui ho chiesto subito una camera perché ero stanchissimo e non vedevo l'ora di sbarazzarmi dei tremava ancora a parlarne mia madre non mi lascia mai molti soldi in tasca una volta in camera mi sono reso conto che avevo solo 15 franchi e qualche spicciolo allora ho deciso di tornare a casa prima che mia madre ma è arrivato Nicolà l'ho visto dalla finestra mentre scendeva dal taxi a 500 metri da qui ho capito subito che era andato fino all'Agnui dove aveva noleggiato una macchina e che a shell era riuscito a rintracciarmi così mi sono chiuso a chiave in camera poi quando ho sentito rumore di passi sulle scale ho spinto il cassettone davanti alla porta ero sicuro che mi avrebbe ucciso senza pensarci due volte borbottò Maigret solo che non voleva mettere in allarme il proprietario non è vero Nicolà allora si è piazzato qui pensando che prima o poi saresti uscito dalla tua camera se non altro per mangiare non ho mangiato niente avevo anche paura che si procurasse una scala ed entrasse di notte dalla finestra così ho tenuto le persiane chiuse non ho avuto il coraggio di addormentarmi fuori e che già un rumore di passi era il tassista che finito il temporale cominciava a preoccuparsi per i suoi clienti Maigret diade qualche colpetto di pipa contro il tacco e la caricò stringendola in pugno con soddisfazione se per disgrazia l'avessi rotta borbottò e subito dopo coraggio ragazzi torniamo a casa a proposito Giuseppe che cosa racconterai a tua madre non lo so sarà terribile Ma che sei sceso in sala da pranzo per cimentarti nel ruolo di investigatore hai visto un uomo che sgattaiolava fuori e l'hai seguito tutto fiero di fare il poliziotto per la prima volta Nicolà apri bocca e disse con disprezzo se crede che mi presterò al gioco e Maigret imperturbabile ne parleremo tra poco vero Nicolà faccia a faccia nel mio ufficio a proposito credo che dovremmo stiparci in parecchi nel suo taxi andiamo un po' più tardi rivolgendosi a Giuseppe rannicchiato insieme a Matilde in un angolo del sedile gli sussurrò all'orecchio ti regalerò un'altra pipa va pure più grossa se vuoi grazie disse il ragazzo ma non sarà la sua